Prima di tutto in questa seconda parte una notizia tecnica di servizio che può interessare molti debitori nei confronti del fisco, infatti il decreto con tanto di emendamento per riaprire la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle è stato presentato da parte della Lega, i termini nuovi delle cartelle esattoriali prevedono il tempo fino al 31 luglio e poi il pagamento iniziare a cominciare in un'unica soluzione il 30 novembre oppure in 17 rate, la prima delle quali sempre entro il 30 novembre. Uno sfratto che aveva fatto discutere è quello di una signora di 94 anni a Castello, a Venezia, uno sfratto che aveva fatto veramente discutere tutto il Veneto, c'era chi era disposto a porsi con un presidio ma le cose sono andate verso la ragione. Preferisce non farsi riprendere e si scusa con quel garbo che Venezia rischia di perdere di pari passo con i suoi abitanti ma le ultime ore sono state pesantissime per lei che ha 94 anni ha rischiato di trovarsi improvvisamente in mezzo a una strada. La sospensione dello sfratto dall'appartamento in cui ha vissuto per quasi 40 anni, diventata un caso in città, è arrivata a poche ore dall'esecuzione. Sulla base dell'età della signora, della impossibilità di spostare una persona di 94 anni su una sentenza provvisoria che potrebbe essere riformata per motivi procedurali in qualunque momento e non si può dire a una signora di 94 anni scusa tanto ti abbiamo spostato, adesso puoi tornare. Il tribunale ha fissato una nuova udienza per il 7 giugno. L'appartamento appartiene da settembre ad un'agenzia immobiliare che l'ha legalmente acquistato e ha tutti i titoli di entrarne in possesso ma attorno alla signora si sono stretti comunque tanti veneziani, in particolar modo i volontari del gruppo 25 Aprile. Si definiscono residenti resistenti, la loro è una presa di posizione che va oltre il singolo caso. Noi non siamo venuti qui per contestare i giudizi della legge italiana, questa è una cosa che riguarda gli avvocati. Noi siamo cittadini che siamo venuti a dare la nostra solidarietà a una persona che se la merita. Questo è un episodio che rappresenta un po' quello che potrebbe avvenire a chiunque di noi, è solo un episodio che è emerso da un sottobosco che è ancora sconosciuto ma che di fatto avviene quotidianamente. I residenti sono sempre più in difficoltà a rimanere a vivere in questa città come sarebbe un diritto. C'è lo spopolamento che sta avvenendo drastico, sappiamo che perdiamo mille residenti all'anno. La vicenda di cui è stato interessato il prefetto è arrivata anche in consiglio comunale. I consiglieri Ottavio Serena e Renzo Scarpa hanno contattato il legale di parte per alcuni chiarimenti tecnici e immaginare gli sviluppi della questione. Si è ritenuto opportuno, hanno scritto i due consiglieri, trasmettere tutti gli atti ricevuti alla Procura della Repubblica riservandosi di svolgere alcune verifiche interni al Comune. I parcheggi restano un motivo di contendere non da poco nella politica di Padova, tant'è che a proposito di sfratti sarà molto dura sfrattare le automobili che adesso hanno occupato l'area dell'ex caserma Prandina in pieno centro. Buongiorno, il parcheggio è pieno? Sì, sì, è pieno. Da quando hanno fatto l'apertura straordinaria dalle 8 del mattino è sempre pieno. Adesso è mezzogiorno, lo sentiamo dal rintocco della campana. Da quanto è pieno? Da quasi un paio d'ore, quindi dalle 10 che è pieno. A mezzogiorno è passato da qualche minuto e all'interno di questo parcheggio ci sono 215 auto, tutto esaurito. È la situazione di ogni giorno, la caserma Prandina racconta Youssef Annou che da dicembre lavora qui come parcheggiatore. È pieno fino alle 10, dopo l'ora di pranzo comincia la gente a andare via e si comincia ancora a riempire verso le 3.30-4 del pomeriggio. E avanti? E avanti, e avanti fino alle 8-9 di sera. Il sabato è sempre stato il caos, quindi sabato chiudiamo le porte per anche circa un'ora, chiusi e chiusi. Su quest'area è dibattito aperto in città, con le anime ambientaliste che qui vorrebbero il più grande parco urbano di Padova, vero polmone verde della città, e poi la casa delle associazioni, non solo quella dei veicoli, ma i cittadini gradiscono questo parcheggio. Stai andando a riprendere l'auto? Come lo trova questo parcheggio? È comodo. Lei lavora qui in zona? Sì. E quindi la lascia sempre qua? Non sempre, ma talvolta sì. Comodissimo, veramente, proprio una bella cosa, sono molto contento. Ci verrebbe anche se fosse pagamento? Penso di sì. Qui ci sono, ci hanno detto, 215 posti, troppi, troppo pochi? Beh Dio, oggi, come oggi, visto anche il pedonale ciclabile che stanno realizzando in parte, eccetera, sono pochi. Io abito a Legnaro, però sono stato 45 anni a Padova, quindi... Quindi lei di solito perché giusava quando arrivava a Padova? Dove trovavo? Quindi girava e adesso viene qua invece? Sì, adesso veniamo qua perché è comodissimo. Ascolti, 215 posti ci sono. Secondo lei, troppo pochi, troppi? Sono pochi. Prima facevamo una fatica enorme a trovare un posto. E invece con questo qua è comodissimo. E anche se a pagamento ci veniamo lo stesso. Prima da diventare mati a parcheggiare, una roba indecente. La lasciavamo addirittura a città giardino e la facevamo tutta a piedi. Ecco, questo qua è ottimo. Sarà molto dura per chi vuole un parco in centro, convincere chi vuole andare in auto che quella caserma sarà un parco e non un parcheggio. Durissima, praticamente impossibile. Perché c'è un'altra Padova, quella che si vuole muovere in bicicletta, quella che dimostra che la bicicletta è un mezzo alternativo. Mancano le ciclabili, le ciclabili però tolgono parcheggi. Un disastro, insomma, come tiri la coperta da una parte, si scopre dall'altra. 2720, viaggi in bici che fanno bene all'aria. Un vero e proprio boom per Mobike. Il bike sharing free floating, cioè senza obbligo di lasciare le due ruote in apposite rastrelliere, sbarcato una settimana fa nella città del Santo. 3.500 nuovi iscritti, 7.000 chilometri pedalati a Padova in sette giorni. Sorridono in comune, dove se sui parcheggi le idee non sono poi così unidirezionali, su queste bici il consenso era stato unanime. Un mezzo semplice e moderno, trazione ecologica. 500 le bici posizionate sinora. Il numero salirà a 600, un premio a chi le lascia nei park predisposti in piazza Cavour, Sazione, Prato della Valle e Al Portello. Per le europee, a nord-est, la corsa per le elezioni comprende anche la Sud Tirole Volkspartei, che è collegata a Forza Italia con il carperista Herbert Dorfman, che punta al terzo mandato. Europei 2019, anche la Sud Tirole Volkspartei in lista nella circoscrizione nord-est. Partito di una minoranza linguistica deve correre in collegamento tecnico con una lista nazionale, che in questa tornata è rappresentata da Forza Italia e Udc. Capolista, l'europarlamentare uscente Herbert Dorfman, in corsa per il terzo mandato, per continuare l'impegno a favore del territorio. Qui in questi territori, quindi a casa mia, in Alto Aggi, ma anche qui nel Veneto, siamo vicini al confine, siamo strettamente legati anche agli scambi commerciali con le zone al nord delle Alpi, quindi noi abbiamo bisogno di un'Europa aperta, di confini aperti, quindi a noi la collaborazione economica, soprattutto all'interno dell'Europa, conviene e io ho lavorato sempre per quello. Proveniente da un territorio fortemente autonomista, Dorfman si inserisce nel dibattito sull'autonomia del Veneto. Io ho sempre creduto nell'autonomia, tra l'altro il mio partito, l'Astituto della Volkspartei e il partito dell'autonomia del Sud Tirolo. Io penso che l'autonomia spetti al Veneto, sono anche convinto che un sistema più federale sia un benessere per lo Stato intero e io vedo qui in Veneto che la situazione che abbiamo adesso, e quindi si va avanti a promettere l'autonomia, si fanno un referendum che poi alla fine non succede niente, la gente è un po' stufa, un po' stanca, la gente qui in Veneto adesso si merita veramente un passo in avanti. Nodo che ancora non viene ben compreso, molto bene a livello, diciamo così, nazionale è quello che il referendum è stato fatto, Lombardia e Veneto, insomma si sarebbero anche espressi loro. Ci fermiamo per una pausa. Grazie.